Buonasera a tutti cari ascoltatori meteo e bentrovati in questo nuovissimo video come iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo in questo video andremo a vedere, ad analizzare l'arrivo di Hannibal l'alta pressione che arriverà verso la metà del mese quindi tra pochissimo, oggi siamo a 16, anzi scusate, dopo la metà del mese quindi tra veramente addirittura si parla di ore come possiamo vedere in questo momento siamo sotto l'influenza di un'alta pressione africana con temperature che stanno nella media stagionale a di sopra attenzione perché qua nel giorno del 18 arriva Hannibal come possiamo vedere un'alta pressione nordafricana si eleverà verso la nostra penisola portando temperature in netto aumento massimi che potrebbero arrivare oltre i 30 gradi su tutto il nord e il sud temperature invece che saranno intorno ai 30 gradi forse un po' di meno invece stiamo parlando del centro Italia il tempo rimarrà prevalentemente bello attenzione però vi devo evidenziare il rischio della creazione di possibili temporali sulle arpi e sui rilievi appenninici questa alta pressione dovrebbe durare in un momento più caldo dovrebbe durare da 2 ai 4 giorni quando poi l'altra pressione inizierà a diminuire l'intensità anzi a spostarsi e poi dopo il 23 dovrebbe arrivare un'irruzione d'aria fredda ma ancora troppo presto per saperlo vi ringraziamo della visione vi invitiamo ancora ad iscrivervi al canale lasciate un bel like e attiva la campanellina non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meglio grazie grazie